Oggi è entrata gratuita in tutti i musei, qui siamo a casa Vasari, una casa affrescata proprio da Giorgio Vasari, quindi una rarità. Sì, sto rimanendo veramente stupita, non l'avevo mai visto, non l'avevo mai visitata a Rezzo, quindi per me è tutta una novità, stupenda, sono qua a bocca aperta. Turisti ammaliati dalla casa di Giorgio Vasari, un unicum perché questa casa è stata proprio affrescata dal Vasari e allora non solo questo museo ma anche tutti gli altri oggi sono ad entrata gratuita e i turisti che stanno scegliendo la Toscana in questo ponte del 25 aprile ed in particolare il territorio aretino approfittano di questa opportunità. È bellissimo, è una cosa che dovrebbero fare più spesso perché comunque la gente è invogliata poi ad entrare perché immagino che comunque già vieni in una città, ci sono tantissime cose che devi pagare e se fanno qualcosa di gratis è meraviglioso. Da casa Vasari alla Cappella Bacci dove sono conservati gli affreschi della leggenda della vera croce di Piero della Francesca, dal museo archeologico Gaio Cilio Mecenate a quello d'arte medievale e moderna, l'entrata gratuita oggi per volontà del Ministero della Cultura attira davvero tutti, principalmente i più giovani. Sicuramente è un'ottima iniziativa anche e soprattutto per portare in questi posti anche gente giovane come noi che magari anche in altri paesi esteri comunque c'è questa cosa della gratuità dei musei e quindi da noi è un po' più rara e quindi questa è un'occasione speciale per ragazzi anche giovani per avvicinare comunque all'arte che nel nostro paese è fantastica. L'arte alla fine è una cosa importante soprattutto per i giovani, dà una formazione in più, avere la possibilità di vederle gratuitamente ci spinge anche ad andarci perché a volte anche 10 euro per un biglietto se sei giovane e studi sono soldi. Magari se un artista lo conosci entri anche se costa magari un po' qualcosa, pronto ma essere gratuito spinge anche se magari non lo conosci bene dice andiamo a vedere quello che c'è, insomma a me piace l'arte però magari qualcuno che piace un po' meno è un modo per spingerlo, diciamo, a entrare certo.